Benvenuto nel nostro canale. La Fiorentina firma la sua prima vittoria esterna in Serie A con un roboante 6-0 ai danni del Lecce. Una prestazione scintillante dei Viola, che si impongono con autorità al Via del Mare nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Palladino centra il secondo successo consecutivo, mentre per il Lecce di Gotti è notte fonda, terza sconfitta di fila e fischi assordanti da parte dei tifosi al termine del match. Il match vede la Fiorentina padrona assoluta del campo, con tre gol per tempo. Cataldi e Colpani si rendono protagonisti con una doppietta ciascuno, mentre Beltran e Parisi completano l'opera con una rete a testa. Il Lecce, in difficoltà già dai primi minuti, resta in dieci uomini al 43esimo minuto a causa dell'espulsione di Gallo per un intervento su Dodò. Da lì in poi, la partita si trasforma in un monologo Viola. Nonostante un avvio non semplice, complice l'infortunio di Gudmundson dopo pochi minuti, la Fiorentina prende il controllo del match e lo sblocca al ventesimo minuto. E Cataldi, con una conclusione da fuori area, attrafiggere Falcone per il vantaggio Viola. Pochi minuti dopo, Colpani approfitta di una respinta e firma il raddoppio con un preciso tiro di prima intenzione. L'episodio chiave della partita arriva al 43esimo minuto. Gallo viene espulso per un fallo su Dodò, lasciando il Lecce in inferiorità numerica. Sulla conseguente punizione, è ancora Cataldi a segnare, realizzando la sua personale doppietta. Con un uomo in più, la Fiorentina dilaga nella ripresa. Al 54esimo minuto, Colpani mette a segno il quarto gol con un sinistro al volo che si infila sotto l'incrocio dei pali, coronando una prestazione superlativa. Passano solo sette minuti e Beltran, subentrato a Gudmundsson, trova il suo primo gol in maglia viola, sfruttando un assist di Coaumet. Chiude i conti Parisi, entrato nella ripresa al posto di Gosens, che segna il definitivo 6-0 con un tiro deviato. Al fischio finale, la delusione dei tifosi leccesi è palpabile, mentre la Fiorentina esce dal campo tra gli applausi, forte di una prestazione che la rilancia in campionato. Prima di salutarci, ti invitiamo ad iscriverti al canale e ricordati di lasciare mi piace e di attivare la campanella. Grazie! Continua a seguirci per rimanere aggiornato su tutto ciò che non sapevi e che sicuramente ti interesserebbe sapere.